Io sono già stato recambiato con l'amore di Fiorentini, penso che sia stato un po' di cose, ho dato tanto alla città, ma penso anche che la città ha dato molto di più a me che io. Le ringrazio sempre, io sono un cliente non più, non mi sento mai che in Tor, perché vado via semplicemente a notar un po' da la città, passo da qua, poi a casa qua, ho tanti amici, sinceramente mi sento a casa, anche forse per questo motivo, quando ci sono questi gesti così di... nella festa, nella piazza, mi sorprendo perché io mi ritengo già un cittadino di Firenze e queste dimostrazioni d'amore mi sembrano sempre solle, anche se il partito che c'è. Ringrazio il radio e il comunico perché il posto dove faremo la festa non è un posto qualunque, ha molta storia, e io sono ancora in dubbio se merito di essere effettitato lì, però nel dubbio mi volo il momento.